Cerignola infila la quinta, non demordono però Corato, Molfetta e Lecce. Giornata interlocutoria insomma nel campionato di Serie C Silver di pallacanestro pugliese con tutte le battistrada vittoriose. Resta a punteggio pieno la capolista città di Cerignola che regola un tenace Cusbari per 91 a 79, più di 70 punti concentrati nel terzetto Zvedauskas, Ionikas, Musci anche se il top scorer è fra gli ospiti Beccari con 31 punti. Successi in trasferta per Nuova Matteotti Corato e Virtus Molfetta, quest'ultima con il punteggio di 77 a 69 con 21 punti a testa per Urcac e Loprieno, uno per fronte. Esordio amaro per coach Brai dopo aver visto la sua new Virtus Mesagne soccombere davanti a Corato, 5 gli uomini in doppia cifra per Nuova Matteotti su tutti Cicive con 18 e nel prossimo turno per i ragazzi di Verile e in programma l'incrocio casalingo con la scuola di Basket Lecce, altra squadra salita a 8 punti dopo aver superato a P Monopoli per 77 a 71, finisce in parità il duello a distanza fra Segura e Papparella, autori di 24 punti ciascuno. Fissata al 20 novembre la gara tra Fortitudo Trani e Dinamo Brindisi sono 4, invece i colpi esterni su 6 partite disputate comprese alle affermazioni di Foggia e New JT Trani prosegue il momento magico per entrambe con Diamond che passa a Barletta straribando 102 a 85 con 33 punti di Rosso e 22 di Kelmelis nelle file di Nuova Cessistica da segnalare comunque i 26 punti di Kirlis e i 20 di Gudemi. Cannonieri a confronto a Taranto dove Egedi trascina la vittoria New JT Trani con 34 punti ad Anspi Santarita ancora bloccata a zero in graduatoria non bastano i 30 di Bojkovic.